Un saluto a tutti gli amici che ci stanno guardando su YouTube, la panoramica No, sei così, ecco, vabbè, vedi dove siamo, siamo a Camposacro, Camposacro, in dialetto Un saluto alla nostra Arisa, te lo sei sempre nei nostri pensieri, speriamo tu fra un po' ci lasci così rimarai un mito e non rompi più il cazzo, ci sono anche degli altri gabinettoni, l'avete visti, vai gabinettoni!